Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, martedì 27 settembre 2016 Un cordiale saluto a tutti voi, cari telespettatori Sono le 7.30 per chi ci segue in diretta Chiaramente un saluto anche a tutti quelli che ci seguono nelle repliche del mattino Fino alle 13.30 che è l'ultimo passaggio sul canale 17 Allora è subito il santo di oggi, oggi è un santo importante, un santo famoso San Vincenzo de Paoli, è stato un sacerdote, fondatore di fondatori Insomma è nato nel 1581 in Aquitania E' morto nel 1660, venne canonizzato nel 1737 Il sole è sorto alle 7.01, tramonterà le 18.57 Allora andiamo a vedere subito il tempo previsto per la giornata di oggi Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso Precipitazioni assenti, le temperature senza variazione di rilievo Per domani, mercoledì 28 settembre Cielo sereno su tutta la regione Marche Giovedì 29 settembre, cielo sereno poco nuvoloso Anche qui bella giornata di sole con temperature in aumento Soprattutto nei valori massimi, tempo stabile Solo fino a venerdì, poi sabato e domenica potrebbe arrivare il cattivo tempo Allora per quanto riguarda l'ospedale unico a Fano Ci sarebbero circa una quindicina di sindaci Che appoggerebbero Massimo Seri, il sindaco di Fano Lo stanno appoggiando soprattutto per questo confronto politico Sulla localizzazione dell'ospedale unico di Marche Nord E dunque appoggiano il sito di Chiaruccia Seri cerca consensi per la proposta avanzata dall'amministrazione di Fano Ma il PD non lo sostiene Il suo gioco è una roulette russa con pericolo doppio Mediazione politica e l'app portano invece a Muraglia Il sito ora più accessibile è Chiaruccia Decisive le impostazioni appunto dell'algoritmo La città dovrà rinunciare al suo storico ospedale Maggioranza rischio o sanzione elettorale Nel senso che se perde l'ospedale a Fano Probabilmente il sindaco si gioca la ricandidatura O comunque il sostegno per la prossima tornata per il secondo mandato La cronaca, due furti, segno nella notte Dilaga la paura adesso tra i residenti Via Menotti nel mirino dei ladri Già prima del rocambolesco colpo con i petardi Con gli effetti speciali dei fumogeni Derubati nel sonno un'anziana con l'abadante Un uomo solo soltanto in un caso Niente denuncia E allora è il racconto di quello che è successo l'altra notte Dove appunto alcuni ladri si sono introdotti nelle abitazioni Nelle abitazioni di persone che stavano dormendo tra l'altro In quel momento E hanno portato via Hanno portato via quello che hanno trovato In alcuni casi i soldi In alcuni casi oggetti di valore In vendita terreno edificabile L'asta beni per 8 milioni Si riunisce il consiglio comunale di Fano Dopo l'estate in apertura l'encomio A poliziotti e carabinieri C'è questo appuntamento Oggi pomeriggio alle 18.30 Nella sala consigliare in Via Nolfi a Fano All'inizio della seduta di questo consiglio Oggi pomeriggio Alla presenza del prefetto e delle forze dell'ordine Ebbene ci sarà l'encomio per alcuni agenti Due agenti di polizia e due carabinieri Sono i due poliziotti Nicola Moschella e Marco Maggini E due carabinieri Francesco Scaletti E Cristian Piscopiello Che riceveranno appunto un'encomio Per atti di particolare valore Di cui sono stati protagonisti Ore 18.30 Oggi pomeriggio Nella sala del consiglio comunale Carbo Line invece Ha confermato tutti gli 88 lavoratori Stiamo parlando Di un'azienda nautica Che ha prelevato Rilevato Tutti gli 88 lavoratori Che prima stavano In un'altra azienda E sono Quelli che erano Alla Azimut Benetti E che dal primo settembre scorso Appunto ha ceduto Questo ramo d'azienda Alla Carbo Line E questo passaggio È una buona notizia Perché ricorderete Gli 88 lavoratori Giustamente Protestarono Per questo Per questa decisione Della Azimut Benetti Di lasciare Fano Vangi Scultore Dona una fontana Alla città di Fano Ma servono sponsor Per le spese E non sono neanche poche Queste spese Il costo dei materiali E delle opere tecniche Ammonta circa 170.000 euro La pagina di Urbino Del Corriere Adriatico Biosalus La città Si vota Al Tibet Columbro Confermato Testimonial Tutto pronto Per la decima edizione Della Kermes Biosalus Nazionale del Biologico E del Benessere Olistico Le novità Sono gli spazi Per gli espositori E attività Nella data orto Dell'abbondanza E poi La pagina Di Pesaro E provincia 100 giorni Basta attese Siamo nella pagina Di Fossombrone L'opposizione Compatta Punge L'amministrazione Comunale Al primo giro di Boa Nel Mirino Il piano urbanistico Con un investimento Da 10 milioni di euro Che però È bloccato No alla fusione Invece Con Saltare Sorungarina Montemaggiore Partecipa Sottolinea L'azzardo E i dubbi Sui risparmi Andiamo adesso Sulla pagina Della Valle del Cesano Finanzieremo Un progetto Da Mondolfo Per un centro Terremotato Il vice sindaco Soddisfatto Della raccolta Di quasi 9 mila euro Con diverse iniziative Gran parte Dei fondi Offerta Nella serata Marotta Organizzata Dalle associazioni Del territorio Deturpata La lapida Delle eroine Di Marotta La stele Era stata inaugurata A novembre La delusione Degli attivisti Di Malarutta E poi ancora Siamo sulla pagina Della Valle del Cesano La seconda pagina Da San Lorenzo In campo Sfonda sul web In classifica Vole il primo singolo Di Dottor Gamma Oltre 150 Visualizzazioni Per Andrea Gamurrini Cresciuto Appunto A San Lorenzo In campo E adesso Sotto invece Sulla pagina Sempre del Corriere Adriatico Ricorso contro La sentenza Del Consiglio di Stato Da Marotta Il Comitato di Marotta Al lavoro con il Comune E l'Avvocatura Della Regione Si parla di Minestrone All'Italiano Di Brodetto All'Fanese Per quanto riguarda L'unificazione di Marotta Sapete Il Consiglio di Stato Ha dato ragione Al Comune di Fano E quindi adesso Potrebbe tornare Di nuovo La divisione Ma insomma Sarà molto difficile Che Marotta Ex Marotta Di Fano Torni Al passato Senigallia Il dipendente Era sottopagato Il Comune Condannato a risarcire L'ente deve pagare 35 mila euro Per due cause Di lavoro Perse in tribunale E adesso L'altra pagina Senigallia Addio al decano Dei Camerieri Ottaviani Morto in Austria Esperto di ristorazione Alberghiera Si era trasferito A Innsbruck Per amore E aveva 71 anni Ed era tornato in vacanza A Senigallia Nella sua città Nelle scorse settimane Il decesso È la conseguenza Di una malattia Che è avvenuto Sabato notte E il Corriere Ricorda l'altro lutto Avvenuto pochi giorni fa Sempre a Marotta Scusate Sempre a Senigallia La morte di una nota Albergatrice Marisa Allegrezza E adesso Andiamo sul resto Del Carlino La pagina di Fano Del Carlino Si apre con Un caso Quello di un furgone In fiamme Il satenitare Si perde E addio soccorsi Il comune risarcisca Un residente di Falcineto Denuncia Sbagliato Il nome della via Oltre al mezzo Mio marito Che ha una dita di trasporti Ha dovuto licenziare Sotto Dopo il restyling Da 65 mila euro Riapre la piscina Dini Salvalai Sotto la gestione Della società fanese Fano un fortuna Nuove pavimentazioni Docce Pannellature E una parete Dedicata Alla notata lunga Che è la manifestazione Clou Dell'estate Resta in ospedale Invece L'anziana truffata Ricoverata Per lo shock Il marito Racconta Rubati anche i soldi Per il medico Sabato mattina Due finti addetti Del gas Hanno esploso fumogeni E derubato La coppia Ladri scatenati Colpi al vallato Poderino E a San Lazzaro Paura nei quartieri Per le incursioni notturne Loro i residenti Dicono adesso Noi non dormiamo più Un fanese Negli abissi Il nostro adriatico E uno scrigno Di reperti Stefano Medas Archeologo subacqueo Racconta In questa In questa intervista Di Silvano Clappis Stefano Medas È un fanese Di lontana Origine sarda Riccionese Di adduzione È un archeologo Subacqueo E navale Da oltre vent'anni Racconta Come diceva appunto La sua grande Passione Dice anche Che Insomma Il mare adriatico È uno scrigno Di reperti Ed è Interessante E tra i reperti Ricorderemo Forse quello più famoso In tutto il mondo È quello pescato Nel lontano Nel lontano Settante qualcosa O sessante qualcosa Insomma L'Isippo E se L'Isippo Fosse la mascotte Di Los Angeles L'ipotesi Di Berardi In vista Delle Olimpiadi Del 2024 Questa è la proposta Ospedale unico Ma teniamoci i nostri I sindaci rispingono La proposta di Gambini Mentre Mocchi Rilancia Su Chiaruccia Sarebbero almeno 15 Comuni contrari Alla realizzazione Di una nuova struttura Poi sotto Da Fossombrone Le associazioni di categoria Strappano Con il sindaco Bonci Nessuna risposta Alla richiesta Di un incontro Per parlare Di sviluppo CNA Confcommercio E confartigianato Avevano inviato Una serie di idee Al sindaco Ma evidentemente Senza risposta Il magistrato Non ha disposto L'autopsia Domani ci saranno A Tavuglia I funerali Del brigadiere Alle 15 Nella parrocchia Di San Lorenzo Vedete nella foto La Opel Meriva Distrutta Di Sebastiano Di Somma 43 anni Nella fotografia Nel tondo Pubblicata questa mattina Sul giornale È morto L'altra notte Mentre rientrava Aveva 43 anni Mentre rientrava Da un addio Al celibato Probabilmente Anzi Sicuramente Un colpo di sonno Ha tirato dritto È finito contro un cancello Aveva 43 anni E lavorava Al nucleo investigativo Del comando provinciale Di Pesaro I genitori e le tre sorelle Hanno raggiunto La moglie E i figli Appunto Di Sebastiano Dalla Puglia La nomina Capalbo Assolti Tre assolti Anche in appello Erano accusati Di busufficio Scagionati Funzionari Regionali Tutto Per la rassegna Stampa No Ci abbiamo L'ultima pagina Ve la faccio vedere Giustamente Quella di Pesaro Del resto del Carlino Eccola qua La fotografia È sui bagnini Alle barricate Praticamente Fatta la legge Sulle spiagge Evoluta dall'Europa Ma la categoria È pronta La ribellione Sulle concessioni Messe a gare Poi c'è la notizia Di nuovo Banca Marche Ubi Fa i conti La vendita Va ai supplementari Nicastro e Goffi Dicono Venderemo Altri crediti Deteriorati Insomma Bella roba Dopo il petardo L'anziana ancora ricoverata L'abbiamo visto Sulla cronaca di Fano Grazie per averci seguito La rassegna stampa Torna domani mattina Alle 7.30 A voi tutti L'augurio di una buona giornata Noi questa sera Alle 20.30 Se lo vorrete Ci vedremo Sempre qui Sul canale 17 Per l'informazione locale Occhio alla notizia Arrivederci Sulla cronaca di Fano